Ok, close the door please. E ovviamente ho avuto riscontri positivi, quindi ho deciso di fare questo video. Qualcuno mi aveva consigliato di commentare quell'articolo maledetto, che io detesto con tutto il mio cuore, per favore non nominatelo mai in mia presenza, che è che non c'è niente di etico nella vita di un vegano. Ci siamo capiti, no? Se siete vegetariani o vegani, qualcuno sicuramente ve l'avrà già citato 56 milioni di volte nel giro di due minuti. Non commenterò quell'articolo perché Carlotta di Cucina Botanica ha fatto un lavoro impeccabile commentando l'articolo passo per passo, parlando dell'articolo. Non ho intenzione di parlare di quel maledetto articolo perché mi sta sui coglioni. Perfetto. Però devo fare due punti su quell'articolo. Perché mi sta sui coglioni? Non perché l'articolo dica informazioni sbagliate, ma perché le informazioni che vengono date nell'articolo fanno sembrare che solo i vegani consumano avocado, solo i vegani consumano quinoa, solo gli vegani consumano le mandorle. Quindi siete dei maledetti, maledetti stronzi! Perché questi alimenti consumano tantissima acqua e i lavoratori sono sfruttati, va bene? Questo è stato il vibe di quell'articolo, va bene? Mi dispiace farlo in maniera così poco seria, ma quello è stato il vibe. Perché tu puoi farmi un articolo dove parli degli alimenti che hanno un impatto perché i vegani, spoiler alert, nessuno dei vegani verrà mai a dirti perché noi non abbiamo nessun impatto ambientale. Perché abbiamo l'impatto ambientale solo perché esistiamo. Però mettermi sullo stesso piano il fatto che questi alimenti consumano acqua e magari ci sono appunto dei lavoratori sfruttati, come se non succedesse tipo nel 99% degli alimenti su questa terra? Anche meno, anche meno. Quell'articolo secondo me ha rovinato la vita di questi poveri stronzi vegani che cercano di fare del bene, invece c'è la rima e arriva l'onnivoro di turno a dirmi lo stai che ho anche le mandorle? Ma chi magna le mandorle? Chi le magna? Quindi sì, ci sono questi alimenti che hanno questo impatto ambientale, ma questi alimenti non sono nella dieta, cioè non sono nell'alimentazione di un vegano. Non sono presenti sempre nell'alimentazione di un vegano. Per carità ci sono magari i vegani che consumano questi alimenti, ma non fanno parte degli alimenti tutti i giorni. Qualcuno su TikTok l'altro giorno mi ha fatto un commento del tipo Per un chilogrammo di manzo si spendono 1500 litri d'acqua, mentre per un chilo di riso si spendono 1200 litri d'acqua. Ma tutto bene? Cioè tu pensi che quella bistecca, perché solo per creare quella bistecca si spendono quei litri d'acqua, anzi se ne spendono molti di più, ma questi sono altri dettagli, Come è arrivata a diventare una bistecca? Quella bistecca una volta era un animale che ha dovuto essere nutrito, ha dovuto avere cure, ha fatto tante puzzette, quindi cosa stiamo parlando? Io ho l'impressione che certi onnivori non considerano quel pezzo di carne un essere vivente che è successo prima. Quindi tutto l'impatto che quell'essere vivente ha avuto dalla sua nascita alla sua morte, cioè ma tutto bene. Ecco perché quell'articolo a me sta letteralmente sui coglioni, perché a prescindere, dite quello che volete, un vegano avrà sempre meno impatto ambientale con un'alimentazione vegana rispetto a un onnivoro. Anche mangiando gli avocado e la chinoa, anche mangiando gli avocado e la chinoa. Io vi parlo da vegana che gli avocado ogni tanto li mangio, non starò qua a dire oh mio dio no, io non mangio gli avocado. Ogni tanto li mangio, sono molto cosciente della questione avocado. La chinoa mi fa schifo, non avvicinatevi a me con quella roba. Eppure i miei colleghi onnivori in ufficio, quando si andava ancora in ufficio, erano quelli che consumavano più chinoa di me, per farvi capire. Le mandorle sono un discorso anche quello che sì, è vero, tipo il latte di mandorle è uno di quelli più impattanti. Infatti io il latte di mandorle cerco di evitarlo, cerco di prendere dei latti che so che hanno un impatto minore. La questione della soia, madonna sta maledetta soia. La maggior parte della soia viene coltivata per dare il mangime agli animaletti degli allevamenti. Ecco cosa succede. In più, da considerare per favore che i vegani rappresentano un 5% di questa popolazione mondiale, praticamente. Quindi secondo questa logica, veramente pensate che il 5% di questa popolazione inquini più degli onnivori? Ma tutto bene? Cioè, va bene tutto, raga, però cerchiamo di essere obiettivi su questi studi. Che appunto sono degli studi, sono state delle ricerche fatte, hanno dimostrato che l'alimentazione vegana è quella con meno impatto. Nessun vegano, e se qualcuno lo dice sono scemi, nessun vegano ha mai osato dire che l'alimentazione vegana non ha nessun impatto. Abbiamo un impatto solo perché esistiamo. Solo per quello abbiamo un impatto. L'alimentazione è semplicemente quella che impatta di meno. Tornando al discorso sostenibilità, magari un vegano parte subito dall'essere vegano senza pensare alle altre sfaccettature della sostenibilità. Quindi, già uno che ha un'alimentazione vegano sarà già sostenibile. Cioè, partiamo già con una marcia molto, molto grande della sostenibilità, che è quella dell'alimentazione. Perché l'alimentazione è uno dei fattori più importanti. Quando si vuole essere più sostenibile possibile, si deve partire dall'alimentazione, se possibile. Se possibile che qualcuno dica che io cerco di veganizzare al mondo. Quindi, per parlare di questioni sostenibili, una persona che è vegana sicuramente lo sarà diventata per motivi ambientali e per motivi animali. La maggior parte dei vegani sono per animali, mentre ambientali secondo me sono più vegetariani. Lo parlo per la mia esperienza personale, che io sono diventata vegetariana, per questioni ambientali poi ho riflettuto molto meglio sulla mia scelta. Non tanto a livello ambientale, quanto a livello animale. Ho deciso di diventare vegana proprio per non consumare più alcun prodotto animale. Non volevo essere responsabile di nessuna violenza in questo mondo. Perché comunque anche l'industria delle uova e dei latticini, io le considero ancora peggio della carne. Quindi ecco il perché della mia scelta. Quindi partiamoci dal fatto che un vegano, giustamente, se fa questa scelta, andrà a fare delle altre piccole scelte dove c'è dello sfruttamento animale. Parliamo della questione cruelty free, parliamo della questione vestiti magari, parliamo di cirche, degli zoo, di tutte queste cose qua, dove c'è dello sfruttamento animale. Quindi a prescindere un vegano, secondo me, rifletterà molto di più su cose sostenibili, molto più in là rispetto a magari qualcuno che è partito con un percorso sostenibile che magari è partito più dalle piccole cose. Io vi parlo anche per me stessa, io sono partita dal cruelty free, non pensando effettivamente agli animali che stavano mangiando, no? Sono partita dalla questione cruelty free. Poi sono passata ai cambiamenti tipo in cucina, in bagno, prodottini, zero waste, bla bla bla. Poi, dopo qualche mese, ho riflettuto sulla mia alimentazione. Però come avete visto, io sono partita dalla questione cruelty free, non connettendo il fatto che effettivamente, ok, bravissima che compri i prodotti quali di prima, ma te sta mangiando il pollo. Ma questo è il mio percorso, come può essere un percorso molto diverso per tutti. Questo per dire cosa? Non è per dire che i vegani saranno più sostenibili di qualsiasi altra persona al mondo, no? Però l'alimentazione vegana ha un impatto molto minore rispetto a qualsiasi altro tipo di alimentazione. Ecco perché comunque i vegani partono con una marcia in più. Ovviamente capita che magari vedo vegani che sono vegani principalmente, appunto, che sono più attivisti che per gli animali. Quindi parlano degli allevamenti, parlano dei problemi legati alle allevamenti, parlano dal punto di vista animale più che ambientale. E secondo me non c'è niente di sbagliato perché stiamo parlando di esseri viventi. Forse non ci siamo capiti. Quindi è molto bello vedere il loro attivismo che lottano per una cosa, per degli esseri viventi che purtroppo non hanno voce. Siamo noi che possiamo dare la voce a questi animali. E cerchiamo di sensibilizzare sulla cosa, cercando di convincere le persone a passare a un tipo di alimentazione migliore. Poi magari non è detto che un vegano pensi molto a, che ne so, alla fast fashion, o di pensare ai produttini zero waste, perché non perché pensino che hanno già fatto abbastanza, ma perché magari non è proprio quello che gli spinge a essere vegani. Non è forse la sostanzialità che gli spinge a essere vegani più che, appunto, il benessere animale. Quindi cosa voglio dire? Quando vedo magari un vegano, che ne so, che va da Starbucks a prendersi un drink da Starbucks, io non me la sento di dire, oh maledetto, c'hai la plastic cup, comiosi, maledetto. Perché, appunto, secondo me l'essere vegani ha comunque un certo impatto. Poi vi dirò, io cerco di fare sostenibilità a 360 gradi, perché io voglio cercare di migliorare in ogni punto della mia vita, però allo stesso tempo, cosa ha più impatto? Scegliere non consumare più prodotti animali, o comunque ridurli, o comunque eliminare tot prodotti, o cambiare spazzolino? A me dispiace metterla su questo punto, però è quella la questione. Cioè, certo, cambiare lo spazzolino, comprare qualcosa di migliore, avrà un impatto migliore. Cambiare l'alimentazione avrà tutt'altro impatto. Poi, come ho già detto, secondo me ci sono persone che non possono essere vegetariani, vegani, persone che per tot motivi non possono, ci sono quelli anche che non vogliono, questo è un altro discorso. Per dire che secondo me, in questo caso, io non me la sento di dire chi è più sostenibile di chi, perché comunque anche una persona che magari non è vegetariana, non è vegana, ma ha fatto un sacco di cambiamenti, come non compro più fast fashion, ho cambiato tutti i miei prodotti in casa, non compro più prodotti che non siano ecologici, bla bla bla, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, non uso tanto la macchina, eccetera. Comunque ha un impatto molto positivo sull'ambiente. Non lo metterei forse allo stesso livello del veganesimo, ma comunque non è un impatto da non poco. Ecco perché comunque quando i vegani parlano di veganesimo, cioè magari non lo mettono sempre sulla questione ambientale, anche se è anche quella una questione ambientale, cioè eliminare i prodotti animali dalla nostra alimentazione aiuterà tantissimo il nostro ambiente, ma allo stesso tempo aiuterà anche tantissimo tanti animali che purtroppo vivono in questi allevamenti intensivi senza vedere la luce del sole nella loro vita. Ci sono tantissimi animali che vengono uccisi ogni minuto e questo anche che da riflettere. Le persone che vengono a dire, eh ma io vado dal mio contadino, cose... Va benissimo ragazzi miei, va benissimo, io non me la sento di imporre niente a nessuno. Questa secondo me, la scelta di essere vegetariani o vegani, deve essere una cosa veramente che te la senti. Non deve essere un obbligo, non deve essere una cosa che voglio anche io diventare vegetariana senza crederci ampliamente. Io quando sono diventata vegetariana lo sono diventata da un giorno all'altro ed ero spinta da questioni ambientali. Quando sono diventata vegana ero spinta per l'amore degli animali e quando qualcuno mi chiedeva ma non ti manca questo, non ti manca... No, perché io non riesco più a guardare un pezzo di carne e non immaginarmi quell'animale. Per me non è più una bistecca. Posso anche dirti mi manca il bacon, ma allo stesso tempo se vedo del bacon al supermercato penso al maiale, non penso che è buono il bacon. Capite? Cioè questo è un po'... Quindi io capisco che l'odio per i vegani è ampio in questa terra e forse lo sarà sempre perché la gente non capisce i valori che ce ne teniamo dentro. Ed è difficile alle volte cercare di sensibilizzare le persone. Io cerchiamo di smetterla con questo odio per i vegani. A me non interessa che non siete vegani, non mi interessa perché non siete vegani. Io non sono qua per veganizzare il mondo, ma sono qua per parlare del fatto che ci sono delle azioni che contano tanto, soprattutto a livello ambientale. Io ovviamente per me, a me sta a cuore gli animali. Quindi cercate di capire le motivazioni che spiccio la persona ad essere vegana prima di iniziare. Eh ma le proteine! Eh ma anche la soia! Eh ma le mandorle! Oh my god! Cioè io secondo me tante persone non hanno ancora capito bene come un vegano mangia. Nel senso che molte persone pensano che si mangiano cose strane. Così dovete capire che tante volte sono veramente gli stessi piatti e semplicemente vengono veganizzati. Sì ci sono i sostituti, anche quelli hanno il loro bel impatto. Non è che tipo non stiamo, cioè come ho detto, nessuno dice che i vegani non hanno nessun impatto. Ma comunque l'alimentazione vegana avrà sempre meno impatto rispetto a tutti gli altri tipi di alimentazione. Quindi è inutile che si vengono, cioè io non ho problemi con qualcuno che mi dice non sono vegano per tot motivi, non mi interessa un cazzo degli animali. Cioè io cosa devo dirti? Non ti dirò niente. Però le persone che hanno la coda di paglia, che devono sempre giustificarsi del perché loro non hanno fatto questo bla bla bla, a me non interessa. Perché non mi interessa. Non ho intenzioni di convincere, cioè non sono tipo i testoni di Geo a venirti a dire passa al lato scuro del veganesimo. No, io sono contenta quando questa scelta parte da se stessi. Quindi se qualcuno è diventato vegetariano o vegano perché ha visto i miei contenuti e cosa che mi è capitato di leggere nei miei messaggi, io sono felicissima perché significa che si sono informati, hanno captato il messaggio, hanno capito, senza che io dicessi io dovrei diventare vegana perché io non lo farò mai, non ve lo farò mai. Quindi essere vegetariani, vegani fa parte della sostenibilità e appunto l'alimentazione vegana è quella con meno impatto. Quindi se siamo all'ambiente, se siamo noi animali, quella è la strada perché è quella che vi farà avere un grosso impatto. Poi le altre cose, c'è la fast fashion, anche quella è una grassissima fetta che secondo me tante persone, magari non è detto che i vegani stiano attenti alla fast fashion, ma la maggior parte di quelli che almeno io seguo lo sono, perché sono attaccati anche a loro, sono all'iniziatto con la sostenibilità e poi sono andati verso il veganesimo. Quindi anche là non è detto che magari uno pensi alla fast fashion, però la maggior parte sì. L'altra cosa che vorrei dire è questa cosa, che i vegani pensano sull'animale e frega un cazzo degli esseri umani, come appunto nel caso dell'Ivo Avocado, chi no, eccetera. Io per esempio, come anche tante persone a mio parere vegani, come almeno quelle che seguo tutto, sono persone che fanno attenzione al loro cibo, cercano di comprare locale, stagionale, fair trade e tutte queste cose qua. C'è anche quello importante, perché se un onnivoro mi deve rompere le palle a me, perché parlo di veganesimo, io voglio vedere cosa fa lui con la sua alimentazione. Vai davvero dal contadino di fiducia? Compri davvero tutte le cose fair trade? Compri le cose biologiche locali? Se non lo fai, non hai alcun diritto di criticare un vegano. Mi dispiace dirtelo, perché un'alimentazione può anche essere sostenibile, anche senza essere vegani, ok? Può essere sostenibile, facendo tanta attenzione ai prodotti che si comprano, dove si comprano, cosa si compra, eccetera, eccetera. Ma per favore, io non ci credo, sarò scettica io, ma io non ci credo che tutte quelle persone che mi parlano del contadino di fiducia abbiano veramente un contadino di fiducia, perché no, è impossibile. Ci sono gli allevamenti, non mi piace chiamarli etici, perché per me non c'è niente di etico nell'uccidere degli animali. Ci sono gli allevamenti sostenibili, quelli locali, come ci sono anche qua in Canada. Ci sono le fattorie dove tu puoi andare a comprarti il formaggio, comprarti il latte, comprarti la carne. Sì, certo, quelle hanno un impatto minore. Ma perché hanno un impatto minore? Perché c'è una poca percentuale di persone che va a comprare da questi allevamenti, perché la maggior parte di persone va al supermercato e compra questi prodotti. Quindi quei prodotti non vengono da allevamenti etici, allevamenti sostenibili, non etici, proviene da allevamenti intensivi. Io ovviamente complimenti se tu hai una persona che ti dà le uova, che ti dà la carne, che ti dà i formaggi ed è appunto un piccolo allevatore. Non ho assolutamente niente contro. Io sono cresciuta con nonni che erano agricoltori, che crescevano tutto il loro cibo, che avevano i loro animali e non compravano quasi niente dai supermercati o comunque le cose, coltivavano tutto loro. Quindi certamente che bisogna sostenere queste realtà. Se tu non vuoi essere vegano, ma vuoi avere un impatto positivo, vai, sostieni queste piccole realtà. Però non dirmi che lo fai e poi invece vai al supermercato a comprare la carne in offerta. E poi anche là ovviamente dipende molto dalle disponibilità di una persona, perché magari uno non può permettersi di comprarsi la carne biologica, uno non può permettersi di comprare solo il formaggio del piccolo allevatore o le uova del piccolo allevatore. e non c'è niente di male, però appunto siate coscienti di quello che c'è dietro questa scelta. Ora io ho passato 20 minuti a parlare di questa cosa, quindi quali sono le mie conclusioni? Le mie conclusioni sono che il veganesimo è una grossissima fetta della sostenibilità. A mio parere le cose con più impatto, con più impatto nella sostenibilità, cioè con più impatto nel senso un impatto positivo quando si fanno questi cambiamenti sono rinunciare alla fast fashion e rinunciare ai prodotti animali. Poi viene tutto il resto. Allo stesso tempo sono molto cosciente del fatto che c'è una più grossa fetta di popolazione che può fare quelle altre piccole cose come, non so, cambiare i prodotti, comprare i prodotti locali, comprare magari prodotti zero waste, eccetera, piuttosto che uno che rinuncia alla fast fashion al veganesimo. Ecco perché io non faccio un piedistallo a nessuno, se non si fosse capito non metto il piedistallo a veganesimo, fast fashion, eccetera, non metto il piedistallo a nessuno. Però appunto cercate di non andare contro le persone che cercano di sensibilizzare su questi argomenti. Perché anche sulla fast fashion c'è tanta gente che ti viene a dire tu odi poveri, non tutti possono fare questa scelta. Ma lo so, ma nessuno aveva detto che dovete fare questa scelta. Però anche là, se compri da brand fast fashion, tu puoi essere sostenibile comprando da brand fast fashion. Però finché comprare 50.000 cose dai brand fast fashion di cui non hai bisogno, quello non è essere sostenibili. Piuttosto, quei soldi che stai spendendo su 50.000 cose, cerca di spendere su qualcosa di più etico, di qualcosa di più sostenibile. Se hai la possibilità di comprare usato, cerca di comprare usato. Lo so che la mentalità sull'usato è ancora molto arretrata, soprattutto in Italia. Però anche quelli sono cambiamenti non da poco. Perché tu comunque cerchi di diminuire il tuo consumo di molti prodotti. Stessa cosa con l'alimentazione. Non serve che tu sia vegano. Non serve che tu sia vegano per dire che ti importa dell'ambiente. Però sii cosciente che dietro la tua alimentazione c'è un impatto molto maggiore rispetto ad altri prodotti. Cerca di informarti prima di scrivere un vegano, eh? Ma la soia! Quindi io chiudo il video qua per dirvi che qualsiasi cosa voi facciate va bene. Io non sono nessuno per giudicare la vita di qualcuno, per giudicare le scelte che una persona fa e una persona non fa. Però sappiate che in tutti questi anni in cui ho parlato di sostenibilità io ho sempre visto chi vuole cambiare, chi non vuole e quindi cerca un sacco di scuse. Non parlo di gente che veramente mi dà delle motivazioni veramente che stanno in piedi. Parlo veramente di persone che ogni cosa è una scusa. Nessuno ti dice che devi diventare sostenibile. Cioè se la cosa non ti interessa tu non lo devi fare. Non sentirti preso in causa perché ho fatto un video sul veganesimo. Perché nessuno ti sta dicendo niente. Perché quel video magari che a te non interessa arriverà una persona che invece sarà colpito. Come è successo anche a me? Io sono diventata... sono passata alla sostenibilità ad interessarmi a questi argomenti. Perché ho trovato un video di una youtuber che tuttora è la mia guru che mi ha aperto gli occhi. Ed è questo che io spero di fare con questi contenuti. Adesso la smetto perché ho parlato veramente troppo. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi è piaciuto. E niente, fatemi che sapere se per caso volete certi video, certi contenuti, certe cose. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!